Musica Sono sempre di più le scuole di danza che portano i propri atleti a gareggiare in queste giornate di fiera, sì, ma da dove provengono i campioni nazionali? Scopriamolo assieme al Presidente federale. Si può dire che qualche regione rispetto alle altre ha un'incidenza in più, ma è dovuto anche al fatto che la popolazione di queste regioni è superiore alle altre. Mi riferisco un po' alla Sicilia, alla Puglia, al Piemonte, all'Emilia-Romagna. Sono grosse regioni e quindi in proporzione loro hanno più scuole e più società rispetto alle altre regioni, ma direi che è più o meno distribuito equamente e in proporzione su tutto il territorio. Quanti atleti sono attesi in fiera in queste settimane? Circa 25.000 atleti, qualcuno di questi poi, ripeto, gareggia in più gare, quindi complessivamente abbiamo 36.000 come numero di partecipanti, ma fisicamente sono circa 25.000, un 4% in più rispetto all'anno scorso. Grazie. Grazie. Grazie.